Ciao a tutti e benvenuti in un video di Maggi Peres non ho capito perchè nello scorso vengrei ho comprato quello per evitare le viti e altri viti e non ho registrato quindi siamo persi un ventre non so perchè comunque ho piantato un po' di alberi e ho preso il portaviti adesso andiamo a portare un po' di roba alla Finlanda perchè non ha più neande la Finlanda sta lavorendo e ha voluto non va bene che lavora vuoto non ho capito non ho capito non ho capito e ci si avuta un po' di alberi dici si avuta un po' di alberi a presto si avuta un po' di alberi lalini la città E' un po' più grande. Grazie. 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 Andiamo a prendere il mio camione. Adesso adesso andiamo a fare una nuova qui. Non ci può prendere. Un'altra carretta. Un'altra carretta. Un'altra carretta. C'è una piccata che c'è l'anone. C'è una mista. Alla prossima 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 Alla prossima